Un buon risultato contro una squadra che è fra i migliori del Girona, questo l'ho intattato nella scorsa, contro un'altra squadra fra i migliori del Girona, non c'è che si salta con le grandi a questo punto? No, diciamo che con le grandi andiamo bene, ma soprattutto penso che quello che abbiamo fatto come lavoro in questo periodo iniziano a dare i frutti che volevamo, che speravamo, poi ci voleva anche un pizzico di fortuna in entrambi i sensi, perché abbiamo preso una traversa interna che ci poteva portare dal 2 a 1, abbiamo preso un gol... Ha fatto la prova, però diciamo che non abbiamo concesso pochissimo a loro e quindi e soprattutto il non mollare fino al novantesimo è una caratteristica che ci sta contraddistinguendo e che penso che sia lo spirito giusto per portare avanti un campionato difficile come quello della Serie D. Per il gioco che sta cercando di proporre, il San Francesco probabilmente non è il terreno di gioco migliore, mister, balla a terra, passaggi veloci di prima, non ci si riesce su questo capovolto praticamente? Sì, non ci si riesce, però l'idea di cui è quella, quella di uscire palla da dietro, perché se riusciamo a uscire bene con palla da dietro riusciamo a trovare gli ultimi 50 metri come è capitato a Taranata, come è capitato a Gravina, diciamo che l'impostazione è quella come idea, poi le chiavi di lettura sono comunque dei calciatori, però l'idea deve essere quella, perché dobbiamo cercare di giocare a calcio e non buttare la palla, anche perché non abbiamo caratteristiche per fare un gioco diverso secondo me, sia di idea che di fisicità, quindi buttare questa palla avanti, giocare sulle seconde palle non nel nostro DNA, quindi dobbiamo sempre cercare di partire da dietro, con delle giocate, rischiando a volte anche qualcosina in più, però cercando nel rischio di qualcosina in più di trovare poi la profondità da davanti. A proposito di rischio, a Gravina, due campi, due gol, col gol di Pozziello, oggi ha rischiato un po' col cambio di Fortunato sulla destra, lì ha iniziato a scostruire un po' di più la nocerina con l'entrata di Fortunato sulla destra? Le problematiche, come tutti i cambi, come tutte le situazioni di tattica che uno cerca di, cerchiamo soltanto di trovare delle soluzioni, quindi la necessità di cambiare un under, di far entrare un under per mettere un over davanti, quindi a volte tocca rischiare, la coperta è corta, quindi dobbiamo fare di necessità per tu, dispiace per il secondo quello come l'abbiamo preso, comunque eravamo schierati e forse con un po' più di attenzione l'avremmo anche potuto evitare, però penso che abbiamo concesso pochissimo a una squadra che comunque è tra le corazzate del girone, come il Taranto, ha una grossa qualità, una grossa spessore tecnico, tattico e quello che ci conforta è che noi siamo stati là, sempre sul pezzo e l'abbiamo messo in difficoltà. Gli infortuni di Calvanese nel riscaldamento? No, vabbè, diciamo che Calvanese già aveva qualche problemino in settimana che abbiamo cercato di far rientrare, quindi abbiamo fatto delle cure mediche e poi oggi nel riscaldamento abbiamo provato, diciamo, le condizioni e francamente rischiare un giocatore eventualmente per portarlo ad un'infortunio maggiore di quello che ha e quindi abbiamo preferito cambiare formazione e far gioco al Granato dall'inizio. Quindi è che sta diventando bella foa? L'infermeria? È che sta diventando bella foa? Eh sì, ma purtroppo i campi che troviamo sono fangosi, sono un po' particolarmente duri, facciamo l'allenamento sintetico, quindi a volte queste piccole cose qua possono nascere. L'importante è trovare sempre soluzioni per cercare di far bene e noi secondo me nelle ultime 3-4 partite stiamo dando continuità di gioco e soprattutto di risultato, perché solo la continuità ci può portare fuori da certe situazioni e poi vedere man mano nel nostro proseguo che cosa riusciamo a fare.